20 anni fa a Chiavari c'erano 5 o 6 corniciai, se non sbaglio, ora siamo rimasti gli ultimi corniciai. Non è una riflessione amara quella di Roberto Risso, corniciaio a Chiavari. È la presa dato di chi sta di fronte alla realtà della grande distribuzione delle vendite online e che da questo ha imparato che non si incorniciano più solo dipinti o foto. E se da un lato si è affermato un minimalismo che ha cancellato la cornice dall'opera, dall'altro la cornice è diventata in alcuni casi oggetto d'arredo di per sé. Roberto sta subentrando al padre Giuseppe che aprì la prima bottega di belle arti a Lavagna nel 1975. Pensi, abbiamo iniziato con sette campioni, se lei adesso guarda il campionario più tutte quelle che poi fanno, e contentavamo tutti, cioè noi avevamo una taglierina, una troncatrice, anzi eravamo già evoluti perché ce l'avevamo elettrica. Non è che ci fossero questi gran trucchi, si trattava soltanto di essere molto precisi, avere un po' di gusto nel scegliere le cornici che si proponevano ai clienti. Più che altro era insegnargli come si usavano gli attrezzi, come si dovevano corniciare, come si faceva un passepartout, poi tutto il resto se l'ha fatto lui da solo. La pandemia non ha cancellato il lavoro, anzi lo ha modificato ampliandolo. C'è chi si è dato alla pittura nel lockdown, chi ha notato una parete spoglia, ma la crisi ha reso soprattutto evidente anche in questo campo che non ci si salva da soli. Roberto è entrato a far parte del direttivo dell'Associazione Corniciai Italiani. Non è più come una volta dove i segreti dell'artigiano venivano custoditi come se fossero una cosa da non divulgare. Tutto quello che ho imparato da mio padre l'ho imparato comunque da una persona, però avere cento o mille colleghi sicuramente su tanti aspetti ho molte più informazioni. Gli artigiani del 2021 devono capire questa cosa. Non ci si fa concorrenza perché ogni pezzo è unico, anche se a realizzarlo sono padre e figlio. Io ho imparato il mistero da lui e usiamo gli stessi attrezzi, gli stessi colori, gli stessi pennelli, ma se anche realizziamo la stessa cornice vengono due cornici diversi e quello è il valore aggiunto dell'artigiano. Una volta l'artigiano ambiva la perfezione, adesso la perfezione è l'industria. La differenza tra noi due ad esempio è che io sono mancino, lui no. È già una differenza, ma una differenza con risvolti positivi. Già quando lavoravamo io e mia moglie avevamo le nostre idee, però abbiamo cercato sempre di rispettare e questo penso che sia il piccolo segreto, cioè io e lui vediamo tante cose in modo diverso, però io soprattutto cerco di rispettare lui perché è lui il futuro. Anzi tante volte gli chiedo come fare le cose, quindi sono ribaltati i ruoli. Quello che io prima potevo insegnare a lui, adesso certe cose lui insegna a me.